Ragazzi vi presento il mostro di Ghila. Questa lucertola vive nell'America sud-occidentale, nell'eserto di Sonora. Uno dei luoghi più aspri al mondo. I mostri di Ghila sono alcune delle lucertole più velenosi al mondo. Hanno una mascella forte e un mostro potente. Ma soprattutto delle mascelle forti con una chiave a pappagallo. Loro non possono mantenere la presa per tutto il giorno. Per un mostro di Ghila basta un pasto composto da tre uova. E sarà sazio per tutto l'anno.